Ciao tesori, buongiorno e benvenuti in un nuovo video! Allora, adesso siamo qui perché apriremo un pacco di Gagisi! Allora, premessa una cosa, praticamente è successo che questo pacco che state per vedere Gagisi gliel'aveva regalato per il suo compleanno il 30 aprile purtroppo però non si sa per quale motivo il corriere non mi ha proprio citofonato e quindi solo adesso sono riuscita ad andarla a prendere alle poste anche perché ero già andata alle poste e mi avevano detto che non c'erano pacchi dimmi eh sì, Zoe ti vuole dare una mano Zia Gisi è, a parte la madrina di Zoe, la zia di Lara, la mia migliore amica la persona più bella che esiste che quando Zoe si battezzerà sarà la madrina la persona più bella del mondo, le voglio molto di bene ma non mi manco però ci manca tanto Zia Gisi perché Zia Gisi è già sì 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 bene, prima che mi emoziono abbiamo bravo, io lo so cosa ti hai fatto attenta a tua sorella attenta a tua sorella che cos'è? vuoi una mano? eh sì attenta a tua sorella guarda, da qua oh mio Dio, già vedo wow è bello wow ma è bellissimo che Zoe piace quanto è bello mon, ovviamente è esagerato no, è fatta da Dio mamma, ti la riquadino c'è Zoe che stai facendo pure Zoe lo vuole, guardate ma no mamma, ci riesci ci riesci? no, serve male farmici mamma non avete idea quanto sia pesante avere la tua migliore amica a un botto di chilometri di stanza però penso che questo questo rafforzi molto l'amicizia in realtà perché vi dico la verità da questo si vedono tante cose mettiamola così non in bocca no, no, no no, no, no no oh che bello così ci puoi fare sì ah Zoe no, no, no cattivella monelina ecco batti le manine sì no non farei punti per narche cioè noi la scriviamo e lei brava che l'ha lasciato ok? no no non so è monela non so è patatina monela vatti 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 balliamo 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 non ce l'ho giù a tetta non ce l'ho giù a tetta questi si divertono secondo me a far così wow la collana guarda eh guarda vuoi vedere? vuoi vedere dove abbiamo? no aspetta che buccia oh che bello questa è mia ha due orecchie questa è mia o la vuole Zoe? ti sto facendo vedere cosa vuole voglio questa 3 2 è finito? facciamo così un po' in po' ora io amore ma Lara tu sei troppo brava hai la bambola di Lara questa non di Zoe questa di Lara è tipo la versione di sai quando nel film si vede lei piccolina sulla spiaggia? me lo sono appena accorta che cosa? te lo puoi mettere anche tu volando wow che carina vai mettigli io io metto allora fatto andiamo yeee ok forse è troppo vieni in avanti vieni in avanti signorina oh ti sei rispostata indietro vieni in avanti forse glielo devo alzare oddio mi piace perché si sente libera oh e sei data indietro di nuovo vai e indietro brava mamma pepe vieni ehe 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 dai miniaturina vieni qua miniaturina vieni dalla mamma vai da Zoe si vai da Zoe vai da Lara amore vieni senza scarpine vediamo un po' ok ah ecco ci arriva meglio senza scarpine oh come corri come corri Zoe perché corri sul posto per me è troppo alto ok adesso l'abbiamo messa un po' più bassa adesso tocca con tutti e due i piedini adesso tocca con i piedini no sempre indietro ma ciao Zoe ma puoi venire in avanti non è un problema adesso è un problema come la sua Zoe ho da un piedini cicciottelli tenta la e vieni oh avete visto sì anche a zig zag mi va bene vieni da mamma pure zig zag vieni perché quel coso si stacca non mi piace che quel coso si stacca vai vieni che ce la fai vieni ci sta a pensare ci sta pensando ci sta a pensare poi fateci sapere se la bambina deve stare in questa posizione o meno perché non lo so non sono espertissimi oh amore vuole bassino piace Caio a Caio gli piace Caio è la soltizia adesso la sorellina vieni da cannolina dalla mamma vieni vieni Eni questo è di Lara è un po' troppo piccolo eh sì adesso gli va piccolo a Lara e adesso è di Zoe rimettiglielo te lo rimetti tu Zoe brava che brava ma che bello questo gliel'hanno regalato a Lara a scuola è una sacchetta con che puoi mettere dentro le cose però è una sacchetta che puoi colorare con i colori è fighissima vuole un palloncino vuole un palloncino vabbè fighissima così l'hanno dato a tutti i bambini per la fine della scuola che bello vieni l'angolino mamma vieni qua vieni vieni cosa fai vieni qua vieni 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 come te l'ha data la mano non andare indietro non andare indietro cerchi miniatura che è quella faccia che è quella faccia che cos'era quella faccia siamo qua grazie cos'era che cos'era quell'espressione era uno sbadiglio era un grazie che cos'era che cos'era che cos'è questa faccia si sta concentrando che è successo ciao vieni 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 perché gli te la fare perché sta faccia tor tor grazie tor grazie tor grazie grazie tor grazie me lo sono perso tor no mi sono perso il pastino avanti perché stavo guardando tor ciao ciao